Prego. Grazie. Io ringrazio innanzitutto dell'invito a questa iniziativa LAGli che, come dicevo poco fa al Presidente, ritengo fondamentale. Quindi vi auguro non soltanto grande successo per questa edizione di questa iniziativa, ma l'augurio è che questa iniziativa possa continuare, rafforzarsi, approfondirsi, anche grazie un po' al contributo di tutti. Grazie a tutti. Cerco di essere il più breve possibile per dare poi modo, se lo ritenete possibile e opportuno, oltre che alla discussione animata dalle domande di Vincenzo, anche poi una discussione che possiamo fare, un ragionamento che possiamo svolgere insieme. Allora, la Pira, intanto situiamolo cronologicamente per quelli di voi che forse non lo sanno, nasce nel 1904 a Pozzallo, provincia di Ragusa, una città che fino a qualche anno fa nessuno conosceva e che oggi conosciamo per gli sbarchi, una città che è comunque, tanto per situarla ancora quella geograficamente, più a sud di Tunisi. Moro a Firenze nel 1977, quindi relativamente giovane. Si potrebbe dire moltissimo di lui, mi interessa dire, ricordare quello che certamente tutti sapete, che è stato uno degli artefici, uno dei padri costituenti, specialmente nella parte fondamentale della nostra Costituzione. Alcuni dei principali articoli sono proprio scritti di sua mano, in qualche modo. Però è stato, come diceva giustamente Rita, è stato essenzialmente un sindaco e lui stesso, quando dopo anni, dopo qualche anno, lui diventa sindaco nel 1951 e lo è fino al 1964, in una intervista disse, quando sono stato sindaco ho capito fino in fondo dall'interno l'importanza e l'applicazione pratica di quei principi che teoricamente avevamo discusso nella Costituzione. Cioè tutti voi, come amministratori locali, avete questo ruolo privilegiato e anche così duro e anche così di responsabilità di trovarvi sul tavolo tutti i giorni del vostro lavoro i problemi dei cittadini. Come pure di incontrarli per la strada e sentire le loro domande, cosa che forse ha un deputato nazionale che non ha fatto questa stessa esperienza, che secondo me dovrebbe essere un servizio di leva obbligatorio, un deputato, un ministro, eccetera, qualche volta non ha questo stesso vicinanza ai problemi delle persone. E questo è una cosa fondamentale. La città è una cosa importante. La Pira scrisse una volta nel 1954 una delle cause fondamentali di questa crisi, parlava al Consiglio dei Comuni d'Europa, una crisi che tocca le concezioni basilari della persona umana, della società umana, della storia umana, non sta forse nella crisi della città. La città con le sue misure, il suo tempio, le sue case, le sue strade, le sue piazze, le sue officine, le sue scuole, rientra in qualche modo nella definizione dell'uomo. Ecco quindi che al di là dei problemi concreti, il governare la città entra direttamente a contatto con i principi fondamentali della convivenza, della natura umana, della persona umana. Governare o comunque essere impegnati nell'amministrazione è essenzialmente un atto d'amore. Non esiste un governo tecnico, un governo è sempre politico e la politica, certamente il governo politico deve anche sapere assumere la tecnica e sapere utilizzare la tecnica, ma la politica deve farsi amore, deve farsi servizio. Governare la città è uno strumento di servizio, governare la città è una scuola di politica, come dicevo prima il servizio di lei era obbligatoria. È attraverso l'impegno nelle comunità locali che noi possiamo riconciliare i cittadini con la politica. Quindi un ruolo fondamentale, estremamente importante e poi, e come voi sapete tutti per l'esperienza diretta, è un dare e un avere di una straordinaria intensità. È un luogo privilegiato. Io, diceva Rito, ho avuto questa esperienza non cercata e assolutamente non attesa in un periodo particolare della nostra storia che conosciamo, che sono gli anni 50, da 94 al 95. È stata un'esperienza per certi versi devastante, che alla fine, negli ultimi tre mesi della mia esperienza da sindaco, senza aver mai fatto un'esperienza diretta in amministrazione locale. Sono stati tre mesi in cui non ho chiuso occhio. Dopodiché è stato necessario interrompere questa esperienza. Naturalmente le cose vanno anche qualche volta prese a piccole dosi, ma in certi casi non si può fare a meno di prendere le dosi massicce. Detto tra parentesi, io ho incontrato la Pira quando aveva appena 15 anni, quindi nell'alto medioevo quasi, e vi ricordo soltanto la frase, che ricordo ancora, me la sento suonare nell'orecchio, lui passò per un minuto a una riunione nella conferenza di San Vincenzo dove stavo io, e disse una frase che io ricordo spesso quando parlo di lui, Ragazzi, da domani dovete pregare con il mappamondo sul comodino. E questa frase io la raccomando anche a voi, perché veramente noi dobbiamo certamente agire localmente, ma dobbiamo avere una visione che è una visione globale, che è una visione veramente mondiale. La politica è locale, è impegno locale, ma deve essere alimentata da una visione globale. Allora, rapidamente, la città. La città sicuramente, voglio dire città in senso lato, cioè va dal paese piccolo alla metropoli, è generatrice di identità. Il pericolo di un'identità forte è quella di essere chiusa. Non si deve essere, non si deve cercare la propria identità contro gli altri, le tentazioni, diciamo, tra virgolette, leghiste, senza voler dare un connotato partitico alla cosa. Si deve avere un'apertura, pur radicandosi in queste identità, avere un'apertura globale, accogliente. Un filosofo francese che la Pira citava spesso, diceva, sono gli animali senza spina dorsale che hanno bisogno di circondarsi di un guscio. Allora, l'identità forte è la spina dorsale. E nell'evoluzione biologica, quando nasce la spina dorsale, l'esoscheletro cade. Quindi l'identità forte è di per sé stesso dialogo. Quindi la città è generatrice di identità, ma è al tempo stesso anche un fattore di dialogo. Un'altra frase di la Pira che voglio leggere, quando la Pira, e si dice giustamente, la Pira è una persona con lo sguardo al cielo, ma con i piedi piantati fortemente sulla terra, diceva Rita, è stato un amministratore estremamente importante per questa città. E lui dice due cose. Una che, anche questa, porta alla vostra meditazione. Il nostro compito di guide della città è pensare. È essenzialmente quello di meditare. Se non meditiamo, siamo soltanto dei direttori generali. Noi sappiamo che l'amministrazione ha bisogno dei direttori generali, ha bisogno di tecnici formati, ha bisogno di persone che sappiano il loro mestiere, ma ha bisogno di politica, cioè ha bisogno di qualcuno che pensa. Una volta, io ricordo, ero presente, un laborista inglese della sinistra laborista inglese di Salapira. Sitor Lapira, di tutti i politici che io ho conosciuto, lei ha una caratteristica diversa dagli altri. Lei è una persona che pensa. Ora, non è vero, noi sappiamo bene che, per fortuna, ci sono molti più politici che pensano di quanto normalmente si possa sospettare. Però effettivamente ricordiamoci che abbiamo bisogno di pensiero e abbiamo bisogno anche di una riserva di pensiero. Ecco perché la politica non si fa mai, non si può fare da soli. Ecco perché è importante trovarsi e scambiarsi anche esperienze. perché noi dobbiamo sentire dietro di noi qualche cosa che ci sostiene. È la comunità che fa politica. La fa attraverso di noi, attraverso ciascuno di voi, ma è la comunità che fa politica. Come il regno di Dio su questa terra si costruisce certo attraverso di noi, ma non soltanto da noi, si costruisce collegialmente. Mi rendo conto che sto perdendo un pochino troppo tempo. vado avanti, abbiamo detto generatrice d'identità, promotrice di partecipazione. Ecco questo è anche un altro compito importante della politica. Noi sappiamo che proprio la città, proprio l'ente locale, proprio il governo locale è diventato paradossalmente il luogo dove si polarizzano gli interessi contrapposti. E noi dobbiamo saper dire e prima di tutto convincersi profondamente dentro che il bene comune non è la somma dei beni individuali. Non è la somma dei beni. È qualcosa di meno nel senso che ciascun individuo o forza in campo deve saper rinunziare a una porta, a una parte di quello che considera il suo bene individuale, ma è anche e soprattutto qualche cosa di più. Il compito della politica è proprio mediare tra le conoscere prima di tutto. Vi ricordate Papa Giovanni XXIII? Conoscere, giudicare, agire. Conoscere le esigenze. Giudicare nel senso di riuscire a mediare tra queste cose e riuscire a fare una sintesi a un livello più alto e in conseguenza agire. e questo è il compito della politica, il compito dei partiti. Il compito dei partiti non è quello di fare le agenzie di collocamento per gli aderenti, perché questo è veramente e tantomeno quella di essere l'azienda al servizio di un padrone o di un amministratore delegato. Vi leggo due passi della nostra vocazione sociale che è un libretto che la Pila scrisse subito all'indomani della liberazione. Non si dica quella solita frase poco seria la politica è una cosa brutta. Quante volte lo sentiamo dire la politica non lo sa sporca. Tante volte ci sentiamo quasi di dirlo dentro di noi. no, l'impegno politico è un impegno di umanità e di santità. È un impegno di umanità e di santità. E ancora, proprio parlando che la Pila non si capisce niente di la Pila se non si tiene presente la sua profonda fede religiosa, il nostro piano di santificazione è sconvolto. Noi credevamo che bastassero le mura silenziose dell'orazione e invece non signore. Bisogna lasciare pur restandovi attaccato col fondo del cuore l'orto chiuso dell'orazione. L'orazione non basta. Non basta la vita interiore. Bisogna che questa vita si costruisca dei canali esterni destinati a farla circolare nella città dell'uomo. Che si riecheggiano in questo tante frasi rilazzati. Bisogna trasformarla la società. Bisogna trasformarla la società. E che cosa vuol dire trasformarla? Vuol dire quello che dice l'articolo 3 della Costituzione cioè l'allargamento del controllo democratico. Non si può fare politica per sentirsi parte di quella classe che è la classe dei meno che deve governare sui più. Questo è un concetto detto tra virgolette se mi permette la modernizzazione è un concetto di stampo massonico. Noi siamo per una città che sia una città e quindi una società che sia governata da tutti Platone diceva dai filosofi cioè da tutti coloro che pensano che vogliono pensare e guardate che oggi il mondo si divide in due categorie quelli che credono in qualcosa e non sto parlando di una fede diciamo trascendente ma anche una fede storica quelli che credono in qualche cosa e quelli che non credono in niente e quelli con quelli che credono in qualche cosa ci si può sempre anzi si deve sempre confrontarsi con quelli che da quelli che non credono in niente bisogna sempre diffidare la città anche cantiere dei diritti di cittadinanza che cosa sono i diritti di cittadinanza beh naturalmente ci sono il diritto alla casa il diritto al lavoro la Pira al momento in cui prende solidarizza con gli operai della Pignone che avevano occupato la fabbrica e lui sindaco va dentro la fabbrica occupata sia pure con la scusa tra virgolette di andare ad assistere la messa in quel momento aveva come amico un amico di tutta la vita a mentore Fanfani che era in quel momento ministro dell'interno che gli scrive una lettera dicendo ma queste cose tu non le puoi fare tu come sindaco non puoi legalizzare qualche cosa che è un atto contro la legge e la Pira gli risponde una lettera che veramente andrebbe letta dalla prima all'ultima riga che dice caro Amintore qualche volta tu ti ricordi di essere anche ministro ma allora in questo momento tu non mi fai non mi incusi nessuno spavento e nessun timore riverenziale e sono i momenti in cui io recupero tutta la mia libertà di anarchico a Dio solo soggetto anarchico a Dio solo soggetto cioè di fronte a queste esigenze superiori non conta non conta neanche un'amicizia suggellata sulla affinità spirituale eccetera sono i doveri vi dico tra virgolette in questi giorni in cui si parla molto di Don Milani Don Milani come sapete ha scritto un libro in cui si chiamava si intitolava l'obbedienza non è più una virtù e l'aveva dato a una nostra piccola casa editrice da pubblicare e la Pira tutti i giorni veniva a parlare con noi quando vide questo libro disse bella cosa bel concetto però il titolo non va bene non dovete scrivere l'obbedienza non è più una virtù perché non è vero perché l'obbedienza è sempre una virtù però qualche volta c'è il dovere di non obbedire e lui ci chiese di cambiare il titolo di quel libro chiamandolo il dovere di non obbedire secondo me resta un titolo molto più possente di quello che lo stesso Don Milani aveva dato Don Milani peraltro aveva un carattere molto duro per cui ci telefonò ci tolse il libro e disse no il libro esce come l'ho scritto io e con il titolo che abbiamo dato noi io ai miei ragazzi però in ogni modo io resto convinto che veramente quello che disse Lapira l'obbedienza resta sempre una virtù ma qualche volta c'è il dovere di non obbedire cioè non ci si può trincerare dietro l'obbedienza non ci si può trincerare e in questo senso Lapira pur essendo un uomo di profonda fede anzi proprio perché un uomo di profonda fede è un uomo di profonda laicità una volta disse a un sacerdote che sapete negli anni 50 i sacerdoti portavano anche voti c'erano tanti politici che si diceva andavano in chiesa non tanto a cercare Dio quanto a cercare voti bene qualche volta i sacerdoti poi pretendevano di presentare il conto e uno di questi di questi venne dalla Pira dicendo ah lei sindaco dovrebbe fare questo dovrebbe fare questo la Pira gli rispose padrino lei dica un Ave Maria che a fare il sindaco ci penso io e gli tappò la bocca con questo laboratorio di solidarietà oltre che il cantiere diritti di cittadinanza ne ho citati alcuni ce ne sarebbe uno dei diritti di cittadinanza fondamentali ricordiamocelo bene è il diritto alla politica ed è il diritto che troppa gente cerca di di espropriarci perché fa più comodo un popolo dei cittadini che rinunziano a questo diritto per guardare gli intrattenimenti vari piuttosto che i cittadini che esercitano il loro spirito critico guardate sarà molto e lo sapete bene tanto bene quanto me forse di più sarà molto più faticoso far esercitare ai cittadini questa partecipazione cioè questa questa amministrazione partecipata faticoso e lungo però è l'unico modo di andare in fondo non si può fare una cosa come si suol dire in inglese perché anche le volte si dice in inglese le cose non si capiscono tanto bene non si può fare il top down in politica bisogna fare il bottom up dal basso si sale all'alto e poi con la responsabilità dell'alto si prende la decisione ma si parte sempre dall'esigenza del basso laboratorio dell'institut di realità non vuol dire assistenzialismo l'assistenzialismo è quello che crea le disuguaglianze ubbidienti l'assistenzialismo non è inclusivo e quindi non può essere dinamico l'assistenzialismo si limita all'emergenza Monsignor Tonino Bello il volontariato va inteso come generatore di coscienza critica come fattore di cambiamento della realtà più che di titolare di un assistenzialismo inerte l'interesse per la marginalità deve giungere alle prassi alla stroncatura delle prassi di emaginazione il volontariato è chiaramente chiamato a schierarsi a decidere da che parte se vuole che la sua azione sia demolitrice delle strutture di peccato o che rimanga una semplice opera di contenimento e di controllo sociale di utile ammortizzatore tutto sommato funzionale al sistema che tali strutture produce e coltiva lo stesso che Monsignor Tonino Bello diceva il volontariato lo possiamo dire al nostro impegno di tutti i giorni sia nel volontariato che nell'amministrazione a mio avvio rapidamente alla conclusione spero sì anzi sicuramente sì ultimo punto la città è icona della pace questo proprio Lapira lo ha sperimentato e scoperto proprio nel suo essere sindaco cioè nel 1954 quando viene quando viene chiamato a una conferenza della conoscenza italiana per rappresentare le città d'arte tutela le città d'arte in caso di guerra lui andò molto più in là di quello che era stato richiesto e disse le città le città non vogliono morire le città non sono nostre le città non sono dei cittadini che ci hanno votato nemmeno di quelli che non ci hanno votato non sono neanche degli artisti che le hanno fatto grande con le loro opere d'arte non sono quindi neanche dei cittadini del passato le città appartengono alle generazioni future noi siamo amministratori siamo tutori dei proprietari della città e come il diritto romano e lui era un professore di diritto romano dava al tutore del figlio Mironen della possibilità di fare qualsiasi cosa vendere e comprare terre eccetera eccetera purché una cosa non facesse non poteva vendere la casa perché la casa era il luogo dove la famiglia aveva le radici quindi noi che siamo amministratori di oggi non possiamo vendere la casa del proprietario della città cioè non possiamo vendere non possiamo deteriorare la città noi abbiamo il dovere proprio come amministratori di impedire che questa venga distrutta dalla guerra e qui naturalmente vi sarebbe da parlare a lungo sulle azioni di Lapira come sindaco come artefice di pace però non la voglio far lunga semmai ne parleremo dopo nella nostra discussione vorrei chiudere citando un altro grande personaggio di quegli anni Tomelder Camara vescovo di Olin de Resife padre conciliare grande amico di Lapira che quando celebrò a Firenze la messa a un mese dalla morte del professore disse nessuno ha il diritto di ascoltarlo e di accontentarsi semplicemente di applaudirlo l'unico l'unico maggio reso alla Pira consiste nel non risparmiarsi nel rischiare nell'adoperarsi perché la giustizia e l'amore aprano la strada alla pace colui che non vuole uscire dall'egoismo dal perbenismo dalla la viltà non ha il diritto di ascoltare la Pira quindi ogni volta che abbiamo la fortuna ma anche la responsabilità e vi parla uno che ha avuto questa vivere accanto a un santo è una responsabilità che pesa come macigno però per ciascuno di noi che legge sente ascolta approfondisce la Pira questa frase è altrettanto un macigno nessuno ha il diritto di ascoltare la Pira se non si impugna fino in fondo in quello che diceva prima Monsignor Camera vi ringrazio